Ciao amici, oggi ho preparato per voi un video speciale. Vi voglio spiegare come dimagrire mangiando quello che volete. Gelati, dolci, pizza, frutta, anche alcolici. Ma Simona sei impazzita? Hai preso un colpo di calore, una sventolata d'aria condizionata? No, sto benissimo. Perché? Ma come perché? Proprio tu che ci dai sempre consigli salutisti e adesso dici tutto il contrario. Aspetta e vedrai. Intanto, come dico sempre, salute fa rima con piacere, non con privazione. E infatti alla fine del video vi svelerò il segreto per cui tutte le diete dimagranti, quelle più aggressive e privative, prima o poi falliscono e si riprendono i chili persi, anche con gli interessi. E non solo, c'è un'altra sorpresa per voi. Ma ora venite con me. Andiamo a prenderci un gelato. Ciaoi. Ma scusa, il gelato non fa ingrassare? Come faccio io? I bambini al mare, quando hanno fame, si mangiano il gelato e tornano felici a giocare. Io sì, lo facevo. Allora ecco il mio segreto, il gelato va mangiato da solo, piatto unico. Se non sapete resistere al gelato, prendetelo il vostro pranzo, volendo anche la cena. Ma non siate superficiali, scegliete un gelato leggero, magari senza latte o con latte di soia, dolcificato con fruttosi o altri ingredienti naturali. Oggi come oggi, ogni città offre una gelateria che fa degli ingredienti sani, il suo marketing. Ecco, va bene quella gelateria lì. Se invece avete in programma un gelato dopo cena, magari in compagnia, fate una cena leggera prima, a base di proteine magre, verdure, meglio se crude, come per esempio l'insalatona, quella che mangio io, che vi ho fatto vedere in questo video. Se non siete al mare ma in montagna o anche in città e avete voglia di sgarrare, potete fare un pasto proteico con una bella cioccolata calda con panna. La cioccolata calda è proteica adesso? Non ci sono carboidrati complessi, la panna contiene grassi e proteine, e se scegliete il cioccolato fondente, con almeno il 35% di cacao, ha anche poco zucchero ed è buonissima. E con il dolce siete a posto per un bel po'. Per un periodo, ho seguito un'alimentazione proteica, sono rimasta io stessa scioccata quando ho trovato la cioccolata con panna tra gli alimenti concessi. Ma poi è diventata il mio dolce preferito tra quelli possibili. E poi scusate, caldi o freddi, a chi non piacciono i dolci, almeno ogni tanto? E allora, se siete d'accordo, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ma non dici sempre di mangiare la frutta fresca per sostituire il dolce? Certo, si può fare anche così. Ma dimmi, ti capita mai di mangiarla e poi gonfiarti come un palloncino? Beh, in effetti sì, la frutta mi dilata proprio la pancia. E succede anche a molti amici e a molte amiche. In estate è bello mangiare la frutta, è fresca, dolce, dissetante. Ma se vi gonfia, ecco allora tre trucchi per mangiarla senza gonfiarsi. Trucco numero uno. Mangiare solo un tipo di frutta per volta. Così è più facile digerirla per lo stomaco e si assimila meglio con meno gonfiore. Trucco due. Mangiate la frutta da sola, a parte, quindi come spuntino o come pasto sostitutivo a sé stante. In questo caso però mangiatene in abbondanza. Trucco tre. Se volete mangiarla a pranzo o a cena insieme agli altri alimenti, avete due scelte. Mangiarla come prima portata oppure dentro l'insalata, come antipasto. Io per esempio a pranzo mangio solo frutta, pesche. Buonissime. Questa tua idea degli sgarri mi stuzzica. E se volessi mangiare formaggio tu cosa mi diresti? Oh sì, il formaggio è una tentazione per molti di noi. E allora cediamo questa volta. Ma con furbizia basta scegliere i formaggi a pasta dura stagionati. come il parmigiano, il grana, il pecorino. Perché sono più digeribili e naturalmente poveri di lattosio. Ma non più di una volta alla settimana però. Li potete accompagnare con crackers integrali, gallette di riso o mais o pane carasà o sardo. Così almeno sono più leggeri. E la torta? Se proprio non potete rinunciare non perdete la testa. Mangiatela così. Fate colazione o pranzo o cena solo con torta e tisana. Ma una volta alla settimana non di più. È una fetta se non volete ingrassare. Potete anche approfittarne per bere tisane, drenanti e detox. Quelle che spiego in questo video. Squaletto chiede se può mangiare la pizza. Certo, pizza e dimagrimento possono andare d'accordo. Pizza e quattro formaggi, stiamo arrivando. Aspetta, c'è un trucco. Per dimagrire mangiando pizza fatela fare senza mozzarella o senza formaggi. Semplice, con verdure o altri condimenti leggeri come faccio io. Ce ne sono tanti che non sono formaggi o salumi. Così non sarete costretti a inventarvi scuse per defilarvi ogni volta che vi invitano fuori a cena. Se volete vivere la vostra estate in forma ma senza rinuncia, basta seguire gli altri consigli che trovate nella mia playlist in forma per l'estate. Il link è in descrizione qui sotto. E per non perdervi neanche un video, basta iscriversi al mio canale. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. Vedete? Questa è la pizza prima di Simona e questa è la pizza dopo Simona. E dell'ammazzacaffè, cosa mi dici? Lo sappiamo, gli alcolici non sono proprio amici della linea. Ma anche qui potete dimagrire e rimanere in forma senza rinunciare alla vita sociale o sentirvi derubati della vita mondana con questi due trucchetti. Uno, scegliete un solo giorno della settimana per i bagordi. Nelle altre serate, siccome capita spesso di stare fuori, ordinate una birra analcolica, un cocktail analcolico o un succo di pompelmo o di ananas senza zucchero, come me, e olive rigorosamente al posto delle patatine. Due, se proprio volete un drink, puntate sulla qualità. Una buona birra, un buon vino, magari bio. Meglio evitare i super alcolici e i cocktail e mischioni vari. Decidete prima la quantità che vi concederete, così darete modo al corpo di metabolizzarlo riducendo gli aspetti negativi. Sono sicura che molti apprezzeranno questi consigli per stare bene. Condividete questo video con i vostri amici, soprattutto con gli influencer del gruppo, che aiuteranno a condividere queste buone abitudini dimagranti. Oppure diventate voi il motore del gruppo. Organizzate delle belle serate di sano divertimento, dove il prezzo lo paga solo il portafoglio e non la vostra linea o la vostra salute. Cin cin! Aspetta, e i segreti di cui parlavi all'inizio? Eccole qui! Il problema con le diete shock è che causano un senso di privazione, a cui il corpo reagisce nel modo opposto. Invece di liberarsi del grasso, lo trattiene, perché teme di non riuscire più ad avere abbastanza nutrienti. Per questo, una volta finite, poi si aggiunge grasso su grasso e si riprendono ancora più chili. Ma va? Sì, e questo ci porta al secondo segreto. Non siate come quelle persone che trasformano la dieta dimagrante in un incubo che le tiene lontane dalla vita sociale e impedisce di fare nuove conoscenze. Nessuno ha piacere a frequentare persone che, no, questo non lo posso mangiare, no, quello non lo posso mangiare, no, lì non posso venire, no, non posso prendere niente, perché, perché, perché? State svegli, seguite questi consigli, abbiate fiducia nelle vostre scelte, voi sapete il fatto vostro. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Ciao!